Iscriviti al canale e attiva la campanella per restare sempre aggiornato. Sta accadendo qualcosa tra Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini fuori dal grande fratello VIP. Per problemi di salute, l'hairstylist si trova attualmente ricoverato in ospedale. Oggi spunta un nuovo rumor che metterebbe nei guai l'ex fidanzato di Belen Rodriguez. A lanciare l'indiscrezione Alessandro Rossica, con il suo profilo Instagram. L'esperto di gossip fa sapere al pubblico che Antonino e Ginevra fuori dalla casa si sarebbero messi in contatto. Il regolamento prevede che finché un vippone risulta essere un concorrente del reality show, non può avere contatti con l'esterno, tanto meno con un ex geffina. Chiaramente Antonino può sentire il bisogno di parlare con i suoi cari mentre si trova ricoverato in ospedale, per il suo problema di salute. Ma avere contatti con un altro ex concorrente potrebbe essere un po' troppo, visto che a breve farà ritorno nella casa di Cinecittà. Ad esempio, in passato, un ex concorrente è finito nei guai per aver portato nel reality alcune notizie dall'esterno, dopo aver lasciato temporaneamente il gioco per via del Covid. Parliamo di Andrea Zelletta, il quale ha dovuto poi spiegare al pubblico e ad Alfonso Signorini com'era riuscito dalla stanza di hotel a ricevere le ultime notizie. L'ex geffino, in quella occasione, ha raccontato di aver sentito dalla finestra come stava procedendo la stagione della Juventus. Ma per questo motivo, Zelletta è finito subito al televoto, insieme a Paolo Brosio. Non si sa se Alfonso Signorini chiederà spiegazioni ad Antonino Spinalbese su questa indiscrezione riguardante i presunti contatti avuti fuori con Ginevra Lamborghini. Ecco il rumor condiviso da Rossica in queste ore. In questi giorni Antonino e Ginevra si sono sentiti spesso, non potrebbero. Non si sono visti ovviamente. Antonino rientrerà a breve nella casa. C'è ancora chi spera che tra Antonino e Ginevra possa nascere una storia d'amore. Ma come ha confermato anche Giulia Salemi, la Lamborghini sarebbe già impegnata con un'altra persona sentimentalmente. Nei prossimi giorni Spinalbese farà ritorno nella casa di Cinecittà, ricongiungendosi con i suoi coinquilini. Grazie per la visione. Iscriviti al canale e attiva la campanella, per noi è importante. Resta sempre aggiornato.